Buon lavoro a tutti. La prima parola della settimana è inclusione. Premio Guido Carli, l'ex governatore della Banca d'Italia, a chi? A Nino Acampora, il fondatore di Pizza Out, la pizza nata alle porte di Milano che impegna ragazzi autistici. Bellissime le parole del presidente della fondazione Carli. Dotato di buona volontà, davanti alle sfide e alle difficoltà, Acampora non si arrende e disegna nuovi orizzonti. Nella sua storia vive la lezione di Carli, ossia la sua fiducia nell'Italia dell'impegno che sa regalare appunto fiducia nel futuro. Premio meritatissimo. La seconda parola chiave della settimana è facoltativa. Congedo parentale facoltativo pagato al 100%. Dove accade? Accade a chiesi farmaceutici per il triennio 24-26, 2024-2026. Varà per tutte le mamme e per tutti i papà, comprese le coppie omogenitoriali. La terza e ultima parola chiave della settimana è Lombardia. Aumentano le imprese che offrono che cosa benefit e welfare aziendale per attrarre i dipendenti. Svetta, secondo la CGA di Mestre, la Lombardia seguita dalla provincia di Bolzano e dal Veneto. Interessanti le parole del direttore dell'agenzia regionale Veneto Lavoro, Tiziano Barone. Il capitale umano, dice, non è una risorsa che possa arrivare semplicemente premendo un pulsante. È l'era del welfare, del benessere. Dunque, buon lavoro a tutti e da ultimo scrivetemi, scrivetemi, scrivetemi su LinkedIn segnalandomi le belle notizie dedicate al mondo del lavoro. Buon lavoro a tutti!